Gia! Gia! Si nacque ufficialmente il 14 febbraio del 2009 Tra le tante novità di questa ultima parte della stagione una nuova compagine del tifo bianco-rosso in curva, la baronda bianco-rosa Si decise di battere il ferro finché era caldo e di ricreare un gruppo nuovo che avesse come pregrogativa quello di un tifo goliardico, di coreografie, aggregazione voglia di ritrasmettere ai giovani quello che oggi giorno i giovani non facevano più cioè andare alla partita in modo attivo, alzarsi, stare lì nel mezzo e tifare Gia! 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 Tanti auguri a Varaonda, tanti auguri a noi sono stati danni incredibili Gia! Emozioni assurde, di gioie e dolori, di momenti non facili, di trasferte incredibili. Grazie per la visione! Siamo diventati amici, una grande famiglia qui in Curva. Per noi è un grande orgoglio perché comunque 15 anni non sono pochi. Vi aspettiamo al palazzo insieme a noi perché comunque la storia deve continuare e continuerà. Grazie a tutti! Grazie a tutti!